Con i numeri di oggi per la regione Friuli-Venezia-Giulia scatterebbe la zona gialla, o meglio, scatterà dalla prossima settimana, quando i dati saranno valutati dal CTS, che ragiona sempre in base ai numeri della settimana precedente. Questa dunque, come confermato dal vicegovernatore Riccardi, che ha detto la zona gialla c'è già, sarà l'ultima settimana in bianco. Nelle ultime 24 ore sono 533 i contagi, 5 i decessi e 194 i ricoveri in area medica, oltre ai 25 in terapia intensiva. Proprio il tetto del 15% dei ricoveri nei reparti ordinari era il limite che ancora non avevamo oltrepassato, oltre alle terapie intensive e all'incidenza. Si ragiona dunque su come contenere i danni, soprattutto economici, delle restrizioni, con lo spauracchio di una zona arancio proprio nel mese di Natale. Il governatore Fedriga, in qualità di presidente della Conferenza delle Regioni, ha chiesto un incontro al governo per lunedì o al massimo martedì. In primis verrà affrontato il tema dei contagi dall'estero. Le regioni chiederanno il controllo del Green Pass ai confini, un caso che ci riguarda direttamente, con Austria e Slovenia alle prese, con una bassa percentuale di immunizzati e di elevato contagio. Fedriga e gli altri governatori stanno ragionando anche se chiedere al governo un allentamento delle misure per i non vaccinati in caso di restrizioni. Non possiamo far pagare il prezzo ai ristoratori, al turismo, agli impresari, spiega il presidente, perciò ipotizziamo di lasciare accesso alle attività, come ad esempio quelle degli impianti di sci, a chi è immunizzato o guarito. Nel contempo la Regione prova ad accelerare sulle terze dosi, aprendo le agende da lunedì 22 agli over 40. La dose di richiamo potrà essere effettuata da tutti coloro che, nati nel 1981 o prima, si sono vaccinati da almeno 180 giorni, indipendentemente dal tipo di vaccino somministrato nel primo ciclo. Grazie a tutti.